oggi facciamo? oggi facciamo gli arancini, gli arancini in base alla roba vai Vicky, vai Vicky, arancini, riso quello tapperano e il burro e il formaggio e qua il ragù e il formaggio da mettere dentro, partiamo? aggiungiamo un pochino le mani, no, sarà molto difficile, aggiungiamo un po' le mani con l'olio così riusciamo a formare, a fare meglio i arancini, anche io, sa cosa salterà fuori, lì Marti un tiro lì, tu Marti ora mi dai, ecco abbiamo iniziato amici è buono bimbi Marti dammi un cubetto di formaggio, qua mettilo qua dentro è buono bimbi e facciamo la palla è buono bimbi è buono bimbi mi lascerai un po' di riso Micky mi lascerai un po' di riso Micky mi lascerai un po' di riso Micky ho mai un po' vai mettici un peccine di formaggio guarda mi lascerai un po' di riso Micky dai ci mettiamo, guarda, aspetta Micky con Micky ci mettiamo un po' di riso sopra e provo a fare la pallina la pallottola ecco, sa mangiare non fai apposta eh? sì Miki, dammi un petitino di formaggio mettilo qua brava Marta, hai visto che Marti l'ha fatta? mamma, c'è lì c'è lì e vai aspetta non c'è un caballo è buono bimbi è buono bimbi mettiamo il lagu puoi dammi un petitino di formaggio, Miki? certo? sì mettilo qua tutti e due? uno l'altro dove lo mettiamo? Halloween ah, strano che non l'hai mangiato mi lascio un po' di riso per gli arancini anche io lo sto mangiando veramente male e come lo facciamo? sembra di essere riso ti aiutiamo a finire prima ah, certo no, aspetta 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 no, basta aspetta aspetta qua aspetta qua aspetta qua io adesso lo passo dall'uovo e Marti dal pangrattato fanno di fare un bel giro ora lo metti nel pianto vai piano, Miki se lo schiuttiamo aspetta un attimo, Miki a tuo prezzo, c'è buono no, non schiacciare allora questo e questo qua metti lì vai vai Marti, vai gira Miki Miki come è? buono è super buono brava e diglielo brava 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 grazie ma ti viene un bacio ma ti viene un bacio mi colletto Miki per preparare il ragù degli arancini mettiamo in una padella un pochino di olio e facciamo soffriggere un trito di carote sedano e cipolla aggiungiamo il macinato sfumiamo con il vino rosso facciamo cuocere un pochino aggiustiamo di sale e pepe quando il vino sarà evaporato aggiungiamo la passata di pomodoro o il concentrato di pomodoro e continuiamo la cottura nel mentre cuociamo i pisellini ancora sorgelati con un pochino di sale acqua e pepe e quando sono quasi cotti ne aggiungiamo ragù e finiamo la cottura per la preparazione del riso invece facciamo cuocere il riso in acqua bollente con del sale poi quando è quasi cotto aggiungiamo lo zafferano sciolto nei tuorli dell'uovo mescoliamo aggiungiamo il burro il grana continuiamo a mescolare e lasciamo raffreddare grazie grazie